Ciao a tutti, in questo video voglio presentarvi la ECO VL480 Custom, un modello che io ho personalizzato un po' in base alle mie esigenze. Troverete il collegamento del video, sempre con questa chitarra, però nella sua versione originale, sotto questo video. Adesso vado ad elencarvi direttamente quelle che sono le customizzazioni che io ho fatto. Partiamo dall'elettronica. Ho montato due unbucker Seymour Duncan Alnico 2, ho sostituito il Tunomatic con un Gotoh, e anche le meccaniche. Troverete sempre il link di riferimento di questi prodotti sotto questo video. Andiamo già a sentire qualche suono. Andiamo già a sentire qualche suono. VL480, ovviamente sono tutte customizzazioni che io ho fatto, non perché non mi piacesse lo strumento originale, ma perché avevo delle esigenze sonore un po' particolari. Quindi ho preferito fare qualche piccola personalizzazione. Vi ricordo che questo è un modello della serie starter, quindi una delle più economiche in assoluto. Io vi ringrazio per aver seguito il video, iscrivetevi al mio canale e alla prossima! Grazie! Grazie!